siamo a Ponte Mario vicino Roma l'uomo che vedete ciondolarsi allegramente è un noto coglione da parco la sua attività consiste nel trascorrere interi pomeriggi alla ricerca del metodo migliore per perdere tempo come vedete grazie alla sua decennale esperienza è decisamente a buon punto oggi tuttavia un oscuro destino sta per abbattersi su di lui a suo fatto da anni di distrazione e di cazzeggio assoluto l'uomo non si è accorto di essere appena stato derubato si proprio tu no dall'altra parte a questo punto il coglione da parco rabbioso ed agguerrito si affretta a raggiungere il lato atterratolo lo deturpa con calci e pugni assortiti dopo averlo massacrato a dovere il perditempo estrae dalla tasca il telefonino per chiamare la polizia ma nel fare ciò qualcosa va storto il portafogli è rimasto inviolato nella tasca davanti non era vero niente ogni tanto anche noi di unreal tv scherziamo con gli eventi forse è per questo che il coglione da parco si avvicina minacciosamente al nostro cameraman e lo riempie di bonte per fortuna senza rovinare il filmato che avete appena visto